Noi sapevamo che quel personaggio aveva dei problemi con la giustizia e questi sono i risultati. Oggi noi abbiamo la società sia nelle basket che nel calcio, lo sapevamo. I nostri politici che vanno su le vote e poi fanno i fatti su, il signor D'Agostino sta facendo un nuovo paese, l'angolpo sta costruendo, che ha fatto per questa città? Ditemi che ha fatto. Ha formulato l'offerta a De Cesare comunque D'Agostino. 500 mila euro, e che si accatta? Ma cosa non si può accattare? Sono amareggiata perché quando le cose non vanno bene non va bene niente, non solo lo sport ma anche l'economia, tutto. Tengo due figli che il più grande e il più piccolo stasera dovrebbe venire da Bologna per venire a vedere la partita della Scandone domani. E allora io dico sempre con Teresa, mia moglie, io tenevo il partito, loro hanno le partite. Questo anno è un anno nero per i tifosi dell'Avellino, sia del calcio che del basket. Speriamo in tempi migliori. Speriamo in tempi migliori, sì. Guarda, prima si vivono tempi diversi, non lo so se era il benessere che c'era ancora, quindi lo sport aveva la sua valenza. Palla canestro e calcio, secondo me, stanno in una fase proprio di ultimazione, di lavori. Cosa si può fare per salvarli? C'è bisogno di persone di buona volontà, dotate di buona volontà, che ha a cuore questa città. E allora a questo punto qua si investe una determinata summa e si riesce a salvare il salvabile. Perché nel basket avevamo raggiunto dei livelli che solamente con l'Avellino in Serie A eravamo riusciti. E francamente non capisco, non ho capito la strategia per cui si compra una società di calcio e poi si lascia morire una di basket. Cioè se le risorse erano limitate, meglio tenersi il basket e non prendere il calcio e lasciarla ad altri imprenditori. Io ho la maglia dell'Avellino, io muoio con la maglia dell'Avellino.